Guarda, vediamo cosa c'è Gatiss Tonico del peso, benissimo, va bene Arrivederci Continuiamo il gioco, ma quanto cavolo dura? Sal cose stesse Siasse Scusi Missione Accedo la volatura Ah che! Ora ci sono! Mi ricordo cosa devo fare Mappa Mappa Faccio un po' più basso il volume Vediamo Vabbè Doh! Dov'è il gioco? Allora Allora No Ho fatto il livello? No Andiamo Ah sbaglio sempre tasto Sì ho fatto il livello Aspetta però ho paura che si sono in vicino Ah no Carissimo Ah Ah questo va bene Che costa meno tappi Oh Oh No Ah Allora Non 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 Lo 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 Ma questa non l'avevo già detta. Riesco a chiedere di avere quella...sì l'avevo già detta, non so perché non mi ha salvato, vabbè. Ah, l'ho dentro, adesso mi ricordo. E poi non l'ha salvato, cosa? E c'era anche l'amica. Ah, dovevo risolvere il puzzle, adesso mi ricordo. Ho fatto cagare in mano. Buono. Porto incidente interno, questo l'avevo già detto. Il signor Seles ha portato uguali stellini e pieno tecniche a basso, fatto da mettere sulla torta e comprando un altro dipendente. Ah, questo no, non l'ho detto. Il dipendente ha ricevuto un pacchetto di trasferimento di risorse umane nella famiglia nel prossimo settimana, ma ho implementato un periodo di microcontrollo. Dovevo risolvere il puzzle in un pick-up dalla porta. Non l'ho salvato, però, l'altro giorno. Oggi, non l'ho salvato in un piccolo, non l'ho salvato in un piccolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salve. Sto ancora pensando ad altri modi di aprire la porta. Di sicuro non ripassando i vecchi episodi di KD Inquel nella mia testa. Allora, abbiamo una soluzione per il blocco. No, l'ho già fatto questi. Qua non ho la porta. Dove? Eh, l'eri qua. Ecco qua. Pausa. Non lo prende, è buggato. Questo l'avevo già fatto. Perchè non lo legge? Vabbè. Posso da qua il documento. Ecco qua. Allora, una lettera è un numero. OpenSense mi sente. Mi ricordo che la parola non mi fa prendere più qua e là. C'è buggato. C'è buggato. Poi che si chiama il documento? Popemoria password. Forse sono mezzo di documenti. Popemoria password. Eccolo qua. Allora, nel caso dei vostri dimenticati dovremmo usare il nuovo sistema di pittazione pensione da password. Basta chiedere perché non ci sono lettere sulle stupide macchine. Prendete la password, conseguiti titoli e nomi. Una volta tanto usate quelle vostre da un'ingegneria meccanica. Allora, ce l'ha scritto open. Ah, me lo scrivo. OpenSense mi. Ah, non va bene questo foglio. Sto un po' scritto. Ah. Ah. C'è un foglio ad io, eh. E' un pazzoletto. E' un pazzoletto. E' un pazzoletto. Cosa? Eh, com'è che era poi? No, lo... Ah, ce l'ho, nei documenti. Notte. Ah, me lo troffio. Acqua! Non so cosa serve questo. Comune di ricerche con il secco dei tori, ma se quelli di quelli abbastanza che ho fatto dentro, metto le mani sopra. Qual è il lavoro? Eccolo qua. Questa è la scelta 5 dollari Allora aiuto Non ho seguito la password colletta ma non funziona Potete aiutarmi 5 dollari che questo coglione L'ha scritto un nuovo male Sesame, dovrebbe essere 822, 826, 14, 22 No, 822, 822, 14, 22 L'abbiamo anche scritto Letta per letta sulla maglia Così è così difficile A me pare che qui Si stia diventando ogni giorno più stupido Ci sarà qualcosa nell'acqua Allora, scriviamo questi Sesame Opa, sesame la passo Allora, 822 826 1422 Posso Ok, e ci siamo Poi Andiamo Ah, SID L'altra parola era SID Ok, adesso Abbiamo detto tutto Quello che mi interessa Si Si Allora, perciò Open Ogni retta nella parola Aspetta Aspetta un attimo Se la passo che ho preso L'822, 826 E sesame Proviamo E si, giusto Perciò una lettera è una parola Una lettera è un numero Che cavolo sto dicendo Perciò Open La O che è la lettera E Che numero è la O? A, B, C Non fare No, ci parla L'8 però è la S Allora Open Una parola open La E Ce l'aviamo che è il numero 22 22 Poi La N Non ce l'aviamo Forse il 13 13, sì La N deve essere il 13 Facendo i miei calcoli giusti La P Non so che numero è Perciò Se l'è il 13 Questo Deve essere questo Poi Secondo Beh, questa è il sesame Cioè Questa qua Quella che finisce con il 22 Poi la terza È seed Seme Seed Che è Quella che inizia con l'8 Lo cavolo è il mucosone Questa No Ho già sbagliato Non era quella Forse che era Seed 8 E 22 Questa Ah, perché ho sbagliato all'inizio Non li facciamo Allora Open 22 13 Allora Questa Sesame Questa E poi la terza Non va Porca cane C'è qualcosa di sbagliato Open 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 26 Open Open Sì Questo No Ma perché Ho messo il chicchiato Questo E il terzo Doh No, non è questo Open 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 Ah, mi dobbiamo le lettere Scusa Open Open Pen Oh No, questa è lunga Questa va bene Poi No, qua Poi Scusa Sì 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 Allora Sì come è scritto quattro lettere due sono uguali c'è qualcosa che non è questa che è sbagliata open 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 troviamo questa niente open open questa qua? sesame se-sa-me se-sa-no se-sa-se-sa-no perché non si stanno tutte se-sa-se-sa questo se-sa-me ma porca di che la miseria sto spiegando il cispa sid 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 eh ma questo perché non si apre no scusa open sesame sid open sesame sid restare qua la parola open sesame sid open 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 poi io qua sesame 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 questa è l'unica perché si stanno la parola sesame il cisame se 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 il punto la e su se 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 il punto il punto è giusto l'ultimo che non è sbaglio sid 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 No Facciamo qua O O P e Magari sbagliato Qua sesame 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 Magari tutte le lettere Qua sesame Perché diventite sempre No Beh Perché non si apre Cosa credi sia successo Alla gente qui sotto Niente segni di collutazione Perdita di gas Avvelenamento Vediamo che va scritto al contadio Vediamo che da qua 8 22 8 La S 22 E la E E ci siamo E qua è giusto Sesame 8 22 8 26 Di essere questa E ci siamo E' open Che sbaglio Che è il 22 13 Secondo me Le cose che ho scritto E poi non si apre Dove che devo mettere Non quale niente No E' bugato Se cosa 22 13 Secondo le mie Ricerche qua Questo e questo E' l'ultimo Che sbaglio Allora Secondo me E' questo Perché Seme C'è il 22 Che è la E Il 22 E' la lettera E Perché La S E' l'8 E non si apre Non è che Questo Non si apre Perché A me Mi sembra Tutto giusto L'8 E' la S A meno Che L'8 Ho capito Forse Non si sono Tutto attaccato La parola La fase Che sennò E' giusto Così Sennò E qua Ce la E Cominciamo Con la E M Sennò Allora La E 22 22 22 E MM Allora, E19 M26 7 E M22 8 E 6 Esame, proviamo così Poi E qua SID, proviamo sempre Quello che avevo scritto prima, con l'8 No, non è quello che avevo pensato, no E se fosse l'11 la E La D, l'11 Pogliamo l'11 di 22 22 22 se fosse La E La S Pogliamo 19 La 8 La E Ancora Fatto poi Sesame La M La M La M il 14 La A O la E perché dice che fosse scritto sbagliato Il 26 26 Pogliamo così Eccetera eccetera Avete capito Niente B Come si chiama la missione, ma cerco su google Perché è impossibile che non si apri Cos'è che è sbaglio Un po' di vita foto Ah Perfetto Perfetto Adesso ho le missioni, eccolo Dal nulla si chiama la missione, si chiama su google dal nulla C'è questo qua che faccio più veloce C'è questo qua che faccio più veloce C'è questo qua che faccio più veloce FALLOUT76 Missioni dal nulla FALLOUT76 FALLOUT76 missione da nulla passo della porta passo della porta vediamo, c'è un video qua, ah no da muta l'u2, ecco maledetta velocità la lavagna, perchè a me non c'è la lavagna, scusa aspetta, cambiamo scena c'è una lavagna, mica l'ho vista a che posso in ammazzare il latte allora è più facile, togliamo quella va va fanchiappolo ecco perchè non riuscivo ah la A è 26, allora la O, allora è facile 12, 12 e la O la P 11 la E 22 la N che sarebbe ho petto scrivendo eh la N 13 allora, sesame la S 8 8 la E 22 la S 8 la o la E perchè quello mi sembra che ha detto che l'aveva sbagliata a scrivere 26 oppure la E 22 ok M 14 la E 22 ok e ci chiamo SID che se M vuol dire in italiano 8 la S 8 2 22 22 22 e la D 23 e la D 23 oh vediamo open allora quella col 12 questa sesame questa con l'8 seed questa eh non si apre è vagato ah adesso si apre ma va panchiappa non si ben fatto un lavoro investigativo degno di tal nome grazie, grazie cos'è una scatola nera sembra ah attendi paladino la maniche vediamo un po' ah ci avevo visto giusto secondo l'etichetta avevano prodotto un diserbante molto potente a giudicare dal contenitore sembra essere fatto per il rilascio di un sistema più grave qui non ci sono diffusori perciò santo cielo la rete idrica della struttura questo spiegherebbe i cadaveri là fuori ma perché dovevano sapere che sarebbe successo non abbiamo tempo da perdere iniziato cerchiamo una stazione da cui accedere alla rete idrica e ciò che ci serve per indebolire i vtc ok fammi leggere il documento qua l'ammetto nessuno ancora vivo tanto vale ammetterlo sono uscito a trovare una formula per combattere i vtc soffocanti recuperato del bc d'industriale il magazzino quel dispense quel bel dispense le notte sulla formula questa percezione di laboratorio tutta scena all'inizio ha aggiornato un po' e ha funzionato nessuno è stato male sembrava a posto voi altri avete pensato che fosse un genio quindi non ho sbagliato quindi aspetta quindi vantaggioso per tutti giusto hanno cominciato ad esistere la dose più ridotta dovuto aumentare l'ho pensato che fosse il sistema di filtaccio dell'acqua potabile avrebbe risolto il problema la gente che vomita anche l'anima dici contrario mi rifiuto di bella preferisco munire i sette scusate gente almeno ho potuto vivere le emozioni di essere di più intelligente della classe per un po' per chi legge questo ho lasciato qui del dieselpunt esatte le progetti i miei saluti a quei vittigi lol no no ho preso il foglio ok abbassiamoci che storia ragazzi penso che c'è la FMO che è troppo impegnata con lavoro penso che passava trovo un punto d'accesso per la redditica ok ah mi sa che la so già dove forse nel bagno uscala fuori uscala fuori uscala fuori non eh? rischio 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 L'acqua Quanto ho iniziato Lontano in questo posto C'era una cosa Una valvola con l'acqua Vediamo di foto dove era Adesso c'è una che la collina Le piastine di identificazione Non mi ricordo dove era Comunque Non voleva che ne riportavo Non mi ricordo dove era 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 La rete idrica principale Decidiamo il da farsi Dove dove Ah qua Da qui dovrei riuscire a disperdere Il diserbante Nella rete idrica E sospetto che quel sistema Di sicurezza Non ne sarà felice Aspettiamoci degli allarmi E anche ciò che attireranno Hai voglia di combattere? Chi sono? Dita incrociate e sul grill Vediamo un po' qui Ok Gli agenti chimici si stanno disperdendo Nel sistema idrico Oh no Ha rilevato una sostanza estranea Prepariamoci a ballare Iniziato Tieni meli lontani Ad victoriam Ok Non ciò che si stanno disperdendo Guardate Non è meglio che non stavo lì Non è che mi sposto da qua Ora Ah Eh da capo Cioè Non so nemmeno da capo Da lontano Come faccio arrivare lì là Ecco l'amore 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 Ah, il suo scarico. Cogno. Curate. No, ho sbagliato. Curate. 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 Oh, küsüme Lambert. Oh, küsüme Lambert. Eh, che cavolo. Oh, küsüme Lambert. Oddio. Gli sono dato un filato un buto vostro. Eh, perché non si cura? Eh, schiaccia la cosa per colarsi non si cura. Mannaggia, peperoni. Oh, küsüme Lambert. Voglio sparare a qua, non si può. Oh, küsüme Lambert. Oh, küsüme Lambert. Oh, küsüme Lambert. Qua, küsüme Lambert. Oh, no. Oh, kadro. scatena l'inferno scatena l'inferno ma perché si gira ciao perché si gira mancava l'uso mi toglie la d'azione se riesco ecco va bene così spavento spavento un tappo alpione freccia un pocina ok fatto il composto chimico viene pompato nell'intera rete idrica tra cui un pozzo nero che serviva a smaltire sostanze indesiderate negligenza verso l'ambiente di una deplorevole società che torna utile a noi quei viticci ora dovrebbero essere abbastanza deboli se fossi in te non berrai l'acqua grazie a tutti Rai su Dov'è? Dov'è minchia è? Non la trovo amici Ah è qua lei Dovremmo esserci quasi ormai Ah forse devo tornare Dov'è il tizio alla porta Ho capito dove C'è che non mi dicono la stata amici Dritto di qua Dove cavolo era? Il tizio che era la porta Forse di qua C'è il tizio che è il tizio Ci siamo Eccomi Sto ancora pensando ad altri modi Di aprire la porta Ah niente Di sicuro non ripassando I vecchi episodi di KD Nella mia testa Allora abbiamo una soluzione Per il blocco Ci stiamo lavorando Allora abbiamo una soluzione Allora abbiamo una soluzione Allora abbiamo una soluzione Grazie a tutti. Cosa fu? Cosa? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco. Entità robotica ostile? Preoccupante. Facciamo attenzione. Ecco. 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 non ti tira su il compagno un po' è un'arma più forte che sto non è un'arma, cambia l'arma un po' è un po' un po' è un po' un po' è un po' è un po' un po' è 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 un po' Buuuu 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 Ehi ma be Grazie a tutti. Oh no. Oh no. Oh no. What? Oh no. Oh no. Oh no. Grazie a tutti 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 Via Grazie a tutti 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 Tu Grazie a tutti 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 Dove Grazie a tutti 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 Vediamo Grazie a tutti 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 Ehm? Mi sono soldato un nemico, ma non vedo più. Ah, ecco. Ce l'ho ancora. No. Mamma mia. Gli scienziati della Nuka-Cola volevano usare composti chimici per produrre nuovi gusti. Ecco come inganneremo il sistema e produrremo il vaccino. Dobbiamo solo capire come... Ah, ciao Fabio, ho un toiletto. L'ho distratto, scusa. Scusami. Entra lo scan. Così abbiamo aggiunto un tuo campione di sangue come ingrediente. Tecnicamente questo ti rende il nuovo gusto Nuka-Cola. Ehm... Ok, fai finta che non ti abbia detto niente. Ehm... Il gusto... L'olio. Ehm... 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 Lo steampack. C'è l'infusione o non hai capito se è una cosa utile? Boh... Lasciamo lì. Aspetta, basta a far capire... Ah, basta. So io come fare per capire se è cosa utile. Ehm... 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 Sta parlando. Ehm... 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 Stiamo lavorando con gli avvocati per capire fin dove possiamo spingerci nell'esaltare le proprietà del prodotto. Stiamo valutando... Un digestivo classico per le nuove generazioni. Oppure... L'acqua tonica dei migliori anni d'America. Cos... L'acqua tonica. Controllo all'aeratore. Ah, qui sono i mici. Sì. 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 Con colpo di secco. Ah, ma qualcuno mi ha visto. Sta arrivando. Sì. 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 Ma che non spari, amica mia? Sì. Un steampack. Sento che c'è qualche nemico, sento rumore. Sì. 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 E' libero. Andiamo. Sì. 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 Non ho le radiazioni. Allora, posso mettere la tuta? O non c'ho ancora il livello? Mi sembra che c'ho la tuta anche le radiazioni. Eh, no. livello 85 ci vuole, cazze. No, sono pochissimo. Ah, no cazzo. Ma non è valido. Sì. 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 La Non è di qua Quali sono i 6-10 Qua ci sono i 10-10 Faccio No Vediamo un po' Vediamo Da di palestra C'è la palestra a casa Dove guardare qua Esamina Fortunamente cosa a casa Dove in modo alternativo I giunti sono indanizzati Solo a caso Un'importante situazione Si coltano i contatti Il corpo di sedimenti Pulisce tutto Un semplice sedimento Rattori per noi Possiamo farcela Cazzo Mi sa che arriva le invasioni Merda Tappo Soldi 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 Cond Accounts Un semplice Grazie. Mmmbemem Nemici sull'Atal Quanto? Muㅋㅋㅋ per commentare i commenti a nuca trova best era ma bettorsi vabbè commenta giusto è normale che pudono i tenti dopo aver bevuto questa bibita avete uno scadente un tappano ma questa è buona questa ti diamo benvenuto programma di quest azioni luca cola tua opinione una parte fondamentale sviluppo della prossima generazione di esperienze dei settanti per i fanatici alla nuca cola leggi firme laboratorio procede a prestazione assegnata come un addetto ti illustrerà il precedente delle costazioni creatore mio assaggiatore in sole o nuca cola corporezza società da ogni responsabilità relativa danni alla persona danni alla proprietà o morte possa definire la mia parte la sua le seguenti attività morte assaggio i liquidi identificati con il nome in codice assaggio i cibi identificati con il nome in codice condizioni accendentare adattazione stanze cancerose scorie biologiche pericolosi fumi anche invisibili indontori sulle spazio temporale in soliti micobi e attività misteriose in attività venisco il pericolo accetto volano attenti firmare questo documento in non c'è assunzione di rischio solo scopo per ottenere il permesso di utilizzare strutture e poi avvitare la società di contribuire al collaudo dei prodotti ancora commercializzati conosco compenso l'esistenza pericoli e rischi con essere attività su menzionate mi sono state spiegate in ucce dei particolari mi impegno a rispettare un regolamento istituzione politica procedione imposte alla società nazionale non impianti proprietà firmando questa inuncia sezione dischi ma assumo la sicurezza di una pellicola e dischio impegno operare con giudizio nell'ambito delle trame proposte c'è inoltre esercire a manevare la società e sui dipendenti centri responsabili associatore e la marina dei stati uniti in caso di diventare danni evidenti alla mia processualità che fico da avere l'età legale per registrare questa annuncia sul solito dei rischi di fare il verifiamente senza costruzione tra 5 si applica a me stesso miei ledi e il mio amministratore e il mio patrimonio ho letto e compreso questo documento accetto pienamente i temi di questa rinuncia sono in rischio ponendo la mia firma allora ok hanno volto perché c'è una parte ricevimento della stazione prendere a tutte le pecazioni necessarie potenziali informazioni riservate all'uso di locazioni e attualizzati tra le pecazioni sono pari a quale pesa la nuca con la corporazione società per le proprie informazioni cambiano valori in realtà comparabili uso informazioni riservate all'associatore del tenere premio consenso scritto alla società per qualsiasi giudizio da parte associatore di informazioni riservate all'utilizzo consentito nel caso in cui chiaramente dimostrata la prova e scritta in parte distingue di presenti accorti e comunicanze con qualsiasi essere di attività in seguito dal sottoparafico consegue che la società consente l'utilizzo di informazioni riservate a parte da associatori tutta la durata del presente accordo misura del aggiornamento necessario rende possibile corrispondente all'utilizzo consentito l'utilizzo di informazioni riservate all'associatore può difficoltare informazioni riservate e tanne nella misura fisica presente accordo o il premio consenso riscritto al 70 l'utilizzo di venita l'utilizzo consentita come esempio l'utilizzo di informazioni riservate all'associatore può conformare alla limitata di terza parte con le correzioni se meritano di informazioni riservate informazioni prevenienti da qualsiasi giudizio di fonti riserva alla misura consentita da presente accordo col premio consenso riscritto alla società insomma è ubicata per legge l'associatore può difficoltare informazioni riservate se è ubicata per legge per esempio posto alla citazione in giudizio un mandato in perquisizione solamente nel documento riservato condizionale all'associatore avviso della società che mangia un anticipo possibile rispetto a tale migrazione su richiesta a carico della società colabili in misura ragionevole ogni tentativo non finisce più qua ok ben accordo con le significazioni eccetera eccetera ho dato il volto di dio non impotente nella sua gloria infinita percepa una moria con tutti gli esseri viventi questo va condiviso col mondo intero ho trovato salva artisti della bibita sono io levis il fan numero uno della nuca ancora parte se lo vendo forse per quanto riguarda la formula ho trovato un gol fuori stati alterare la formula già perfetta le bloccate nelle maniche ma ecco cosa è 6-8 lol facciamo un po' schifo con l'arma hanno dato un cavolo che computer da guardare zucca ah no zucca no 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 è toccato di sorpreso anche niente non buttare la ok Una cosa da creare Ma c'è Ma c'è nessuna letta azzecata Forse è blu Nessuna letta azzecata One C'è ottenente Ma ecco, forse è la M Oh la La Niente Ah c'è carto, leone e malino Codice di progetto Ah su tutte le bibite Tic ecco Nome pubblico Pocaucina Azzenico Nome dei motivi che utilizzare le bandi alle peric come base per il gusto Smorzare il gusto intenso con un pizzico azzenico LOL Castolo figuoso Provo a raggiungere i frammenti di zucchero nel suo libro per simulare il quarzo Per vendere se risolve i problemi di capitazione delle versioni precedenti Ah, cassaforte Non so dove la cassaforte però è aperta Forse è sotto Eccola qua Ok Qua c'è un altro computer L'abbigazione non è un po' rotto È stata rivelata una nuova sequenza di sapori Prima che la produzione possa iniziare i protocolli di partimento e manti che insiste sulle equazioni analisi completa nel marchio A base del profilo di questo attivo anticorpi umani conosciuti mescolati con zucco, l'aldine e carbole Potevano essere consumatore attacchi a te in questa memanda Giovane ha tredici digitani, giovane presso il sinistro Ah, la gente non ha voglia di morarsi e non ha voglia di morarsi Il trucco in di butto è stato lavorato e la tua bevanda porta per condizioni Ma non posso per almeno di immaginare come fosse lavorare qui Iniziali avviare veramente la catena in montaggio Voglio dire, è pazzesco No, eh, ho fatto la bibita Tornizzazione a livello esecutivo Squalo balena Sospesa per indagini legali Chiedi attrazione Olca Chiedi a precature aggiuntive per gestire la natura Rosiva e riscontrate in corso di posizioni Prodotto in sospesa e in attesa della precatura necessari Acquistate in data 309 del 2077 Arbato In corso di posizioni su richiesta del dottor Aula Necessuale turnare le ricerche sulle reazioni chimiche e contatto con i sufficacisti Si, dole Avvio la catena di montaggio Si può dire che c'è la birra Eh, che c'è la birra Nucca ancora Vediamo cosa c'è qua dentro Vincino ancora un nemico Vedo una soldata Ecco Sono un altro da qualche parte Vincino ancora un nemico Cosa Vincino ancora un nemico Dicino ancora un nemico Ok, andiamo Ci siamo Mi faccio spaventare, non fallo mai più A te l'onore La Ora Accogli, ah, accogli la Coca-Cola Coca-Cola Ah Coca-Cola Vaccinata Ok, ho fatto il vaccino Consiglio il vaccino a Meg Ok, andiamo Ok, andiamo Ok, letto Ancora sul Twitch Eccomi Se ti serve aiuto con armi e armature vai da Airi Per il giusto prezzo può trasformarti in un arsenale ambulato Armi e armature Ah Ah Mi ha fornito alcune modifiche Eh E' un'altra parte Ancora E' un'altra parte Ancora Un'altra parte E' un'altra parte Mi piace Mi piace il E' un'altra parte E' un'altra parte E' un'altra parte Muzie Il L'غ Cage 6 se questa merda non funziona la prenderai ok questi li farò distribuire i miei ma ne aspetto altre consegna vaccina page è sempre qua quindi si parla con l'oxy sono missioni secondarie mi sa che questa ma però a quello di parla i terminali però c'ho i pezzi messe la missione principale dove la foundation ma scusa qua cosa c'è ho sbagliato ma poi vediamo non li trovo c'è un terminali ah ci vuole la chiave scusi non è che c'è la chiave gentiluovo è interessante parlare con un abitante del 76 a molti di voi altri piacerebbe solo ammazzarci o almeno provarci ma non sarebbe facile chiede a foundation che ne pensate di colori credo stiano lottando contro una verità innegabile il mondo è morto civiltà, leggi e propaganda governativa sono più letali adesso di quanto lo erano prima della guerra prima lo imparano meglio è quel caso si date cosa ci guadagniamo attacchiamo ad armi spiegate e poi nella migliore delle ipotesi vinciamo e dopo chi tormentiamo per tappi e cibo di sicuro io non sono tagliato per fare il contadino quando ne pensi di noi abitanti ad onus provo un pizzico di invidia credo pare che voi abbiate vissuto nella bambagia e noi no ma sono anche stupito considerato quanto siete diversi tra voi è un miracolo che il soprintendente vi abbia mantenuto in vita copertino interessante ti piace? trovare uno smoking non è difficile con tutti i negozi vuoti che ci sono in giro ma come tenerlo pulito beh questo è un mio segreto è vero come fate lo pulito ci vediamo da qua quando vuoi il 76 ah ho visto che ci ho letto posso dormire mi occupano un po' di vita un bello matrimoniale letto ci dovete ci si Ok Ok. Ah, qui c'hanno i cani. Boh, usciamo in un tovertizio. Ah, qui c'hanno il colpo di grazia. Ah, qui c'hanno il colpo di grazia. Ti ascolto. Bene, non hai l'aria del parassita. Non tutti sono fedeli, sai? Alcuni prendono da noi tutto quello che possono. Ci usano e poi ci lasciano ammarcire. Non è giusto. Non siamo un'organizzazione di beneficenza. Ci aspettiamo un contributo in natura. Il nostro non è un sistema complesso. Allora, ci stai? Dimmi cosa devo fare. Bene, non sei una mammola. Sono colpita. Avevo già inviato un cacciatore a seguire questa traccia. Queste indicazioni dovrebbero bastarti. Se alla fine trovi solo un cadavere, non preoccuparti. Magari qualcuno è arrivato prima di te. Io voglio solo sapere che giustizia è fatta. Ah, è una secondaria, ok. Devi solo mandare un messaggio. Niente di che. Un proiettile, una coltellata, parole forti. Lavora con quello che hai. Che c'è qua dentro? Andiamo a vedere. Non c'è niente interessante. Poi c'è un altro tizio che vuole fare. Guarda quante cavoli secondari ci sono qua. Guarda la macchina autosconto. Non c'è un altro sconto. Se ci cascassi ogni volta, dovrei dire addio alla mia attività. Non credi. Vattene solo. È mai lontano? Ah, sì. Questo devo vedere. È 40 metri. Sono incastato quando ci passa. Ah, questo dice il tizio torna. È qua dentro. Ah, è chiuso. Qua. Ma è chiuso. Come faccio in tale? Se è lì dentro. Ah, da qua. Che posso. Salve. Che vuoi? Grandioso. Adesso devo perdere tempo anche con te. Ti manda Meg, vero? Cosa vuoi? E sbrigati. Ho da fare. Vole solo pallani. Ci vuole molto. Sei davvero una recluta. Se stai cercando di cogliermi alla sprovvista solo perché sei qui da poco, non funzionerà. Dimmi che vuoi e basta. Chi sei? Da queste parti tutti mi chiamano Bren e gestisco le comunicazioni di questo postaccio. Se vai in missione tutte le informazioni passano da me. Se trasmetto qualcosa devi ascoltare e basta. Mi sono lasciata trascinare di nuovo qui per vedere la gente morire. Intesi? Ok. Non intenzione di morire. Lo dicono tutti. Prima di urlare chiedendo aiuto via radio. La gente morire quanto non ha nascosto. Esatto. Vedo che cogli al volo quanto ti viene detto recluta. Ma adesso basta con le chiacchiere. Hai bisogno di qualcosa? Ho da fare. Sto cercando un modo per evitare qualche tappo. Stai cercando lavoro? Non sono ne sbagliate. Va bene cosa ti serve? Mi servono delle valvole termo ioniche. E grazie a delle informazioni che ho raccolto so dove puoi trovarle. Aggiornerò il tuo Pip-Boy con tutte le informazioni necessarie. Ricorda mi occorrono pezzi utilizzabili non per raglia qualsiasi. Ok. Sono sicura di averti dato un incarico. Non sarebbe meglio che andassi. Vedo se c'è qualcosa interessante. No. Non c'è niente. Ok. Vediamo le missioni. Ah sono pure giornaliere queste. Sì non voglio farle. La consegno vicino a Page. Consegniamolo. La. La. Il. Il. Fucile da cecchino, eh? Per abbatterli senza che se ne accorgano Chissà stessani ha del gelato, ora che ha un frigo Tutti questi nuovi arrivati mi rendono nervoso Mi farei volentieri un bel palino Un...un sandwich Ecco Siamo pronti a distribuire il vaccino non appena arriva Parliamo di compenso Compenso? Prima mi convinci che ci serve il tuo vaccino e poi tenti di approfittarne? Che ne dici? Il tuo cuore di pietra è soddisfatto? Ah, grazie A fare fatte Correggimi se sbaglio Ma i vaccini non si inoculano con le siringhe Questa è una confezione di luca cola Carisma, eh? Non hai detto che la medicina è essere un cattivo sapore, giusto, bevi? Beh, hai fatto addirittura in modo che fosse facile da somministrare Notevole Ancora non so cosa pensare veramente di te, abitante del vault Ma...salvarci da questa piaga è un buon inizio Abbi cura di te e dei tuoi compagni là fuori Per caso hai qualche nozione di edrauli? Boh No, arrivi e parla col superviviente Ah, devo tornare qua, ok No, no 25 tappi ammazza Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah... Ah, ah... Ah, ha percepito questo Vediamo un po' No, cosa ho fatto? Ho sbagliato il tasto Questa via No, ho preso questa Quanto peso ha? 5 Ok A posto Andiamo Eccomi, ho fatto la missione Tutto fatto, tutti vaccinati Che sollievo Prepareremo altri lotti nel caso in cui il primo non sia sufficiente So che stai facendo molto più di quello che avresti dovuto Non credere che non me ne accorga Grazie Ora che la crisi è scongiurata Dobbiamo metterci al lavoro su quel mistero tra le montagne La sai l'ultima? No, sono un po' fuori dal giro Anche altri abitanti del 76 hanno scalato le montagne alla ricerca di questo tesoro di cui parlano tutti quanti È un volt Volt 79 Ah, coscia? Senza apparente possibilità di entrare Le fantasie su cosa contiene si sprecano Non sappiamo come accedere Ma forse ho un piano per scoprire almeno cosa contiene Ogni laureato dell'università Voltec racconta la storia dell'ala riservata Dove tutti i pezzi grossi tengono le loro riunioni E non parlo solo di professori e assistenti Mr. Andy Ma intendo meeting con esponenti del governo Dell'esercito Quindi iniziamo per vedere se stiamo trattando questo rotto Ho aspettato 25 anni Ma finalmente è giunto il momento di scoprire cosa nasconde Uh, bella questa missione C'è un salito livello Ops, è un livello Ah, sì sì, non puoi le panze Si presenti nascondi Eh, sono andati avanti, dai È bello rivedere tutti quanti Avere domande se quelli ci si, se quelli, eh Eh, ok, qua Farla con Dareful Sempre qua Ah, ma Sopprendente, sopprendente Ah, non hai visto Ah, scusa, perché c'era Per un altro, qualcosa ne mi convince Dov'è da iPod, scusa Forse è sul piano di sopra Ma dov'è? Se ti metti Se ti metti Dice che è in basso Oh Oh Ah, deve essere No, questo è il cesso No Sarà fuori Ah, sì Ah, sì Ah, sì Ah, sì Ah, sì Ma io non ho trovato sto tizio da report, tanto si banca sto gioco, non c'è una ricerca se non c'è ora vado a trovare quell'alto vault poi è sparita pure a soffrire in dente forse questo è vero e che è botta boh vabbè non c'è c'è un tizio da parlare mi dice ma io non lo vedo e questa è pure la porta per uscire lo usiamo il teleport andò fa livello intanto che finisce di caricare lo dimentichetto no ho fatto la modessa foto qua o facciamo ci penso ah ecco ah ma è già pieno anche ok a posto cosa io vado a vedere missione, perchè? non trovo quella mappa no boh parlo con the iron potroppo una spoon alla secondaria vabbè se l'era buggata andiamo al vault con il... si parlo necessità 10 tappi lol che cos'è che c'ho preso? 224 cosa mi ha dato scusa? ah non lo metto nel deposito non lo metto no via qua si rotta? è questo che pesiamo allora no è bagliato ah non lo metto da atomico ok 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 no no non lo metto con la zona che sta dentro ok ah ma no che cosa mi ha dato che cosa mi ha dato che cosa stava al centro Allora la posso riprendere Penso 16 Ma va fanchiappolo Voglio fare esperimento Allora la posso riprendere Ok A posto Che è? Ma qualcuno mi ha regalato per la roba Ah il tizio che era qua Ma dove è andato Sparito Qua regalano le robe e se ne vanno Ah ho sentito qua camminare qualcuno vicino a me Thank you very much Magari qualcuno che guarda la live Andiamo So I don't even date it Sorry I don't even date it Sorry I don't even date it Che è? Non dare visita Eh vai alla missione vabbè Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Togliamo queste varie che ho capito cos'è. Oh. Guarda qui sopra il vedente. Ah, è sopra. Eh, che cazzo mi hai fatto cagare in mano. E' ancora morto. Sto muonendo io. Uh, la che... Alla riparo in attesa della neutralizzazione del criminale. C'è stato pericolo. No. Vediamo qualcosa. Ah, c'è quello arrivi. Ah no. Ok. Ah, ho dotato i... Così. I robot. Andiamo a dotarli. Uh, prendiamo stascia la infusione. Ok. Ok. Hai pensato che gli studenti potessero raccontare... Ma 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 ma... Importa un po' L'hanno visto o sentito prima della laurea. Soprintendente... Non è... A par... Mio. Credo che abbiamo qui uno dei suoi abitanti... Vieni. Prego. Un filere. Parlare di questa ridicola richiesta. Ma non lo può dare con qua. Salve. Il soprintendente... Mi hanno programmato per gestire l'università in assenza del Rettore e adesso è assente, perciò la gestisco io. Ok, c'era molto detto. Ti ha detto che dobbiamo entrare nell'area riservata. Ammesso e non concesso che esista un'ala simile e non lo sto certo affermando, nessuno di voi avrebbe le credenziali per accedervi. Sovraevidente consigli è inscritto qui all'aula, non basta come condizionale. Sì, sì. Sì, sì. Non intendo assecondare in nessun modo le tue richieste. Sono tutti molti e anche uno della potenza. Le condizioni del mondo esterno non sono un mio problema. Vedo che non volete cedere. Molto bene. Allora c'è un problema che potreste aiutarmi a risolvere. L'università ha bisogno di studenti e laddove il tuo soprintendente ha già affrontato il programma, tu che vivi e respiri potresti entrare nella classe di quest'anno. Ok. È ridicolo. Anche se avessimo quattro anni da impiegare e non li abbiamo, l'università è deserta. Non ci sono professori. E protocolli di emergenza consentono ai mister Andy responsabili della manutenzione di seguire gli studenti fino all'esame finale. La loro capacità di gestire la simulazione del Volt è sperimentale, ma più che adeguata al compito. Come funziona questo test dunque? Ti verrà assegnata una missione che dovrai completare nell'area di simulazione del Volt. I mister Andy saranno gli abitanti a cui dovrai soprintendere. Produrre laureati di qualità è l'obiettivo principale che mi sono posto e questo obiettivo da troppo tempo non viene conseguito. Va bene, completerò questo tuo esame. Mi fa piacere. Nello scenario di questa prova il Volt è diviso in fazioni. Devi risolvere i conflitti nella maniera che ritieni opportuna. Il capo della sicurezza ti fornirà tutti i dettagli. Buona fortuna. Non conosco questo scenario di prova. Il professor Volt deve averlo riprogrammato di sua iniziativa. E parleremo del tuo accesso all'ala riservata. Una simulazione di Volt gestita da robot. Potrebbe accadere qualsiasi cosa. Palla col capo della sicurezza. È in più da sotto. Sotto. Intanto lottiamo. Chi è? Ah. Che si fanno male questi? Noi sono rotto un pezzo qua. Non via che andiamo giù. Curiamoci. Ok. Ok. Oddio siamo andati un po' più giù. Ok. 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 Tipo qui. Non passa al passale. Non fa il giro da sopra mi sa. Ah, sommario, un esperimento atto da determinata capacità di creare una necessità autonoma. E in sintesi, l'esperimento con oggi un gruppo di cani addestati ad addestare altri cani affinché eseguano i compiti veramente umani. Certo, addestare il mio scuazio nano, l'idee. Aprile ai porti del valuto, chiedo se è un inizio molto competente. Sarebbe infelice, c'è una dimostrazione con la mia cucciolina. Risponso riducente. Questa proposta manca in sostanza e mi induce a diputare solamente la sua devozione al progetto di consolazione alla razza umana. Contammo e ci discutiamo con la proposta sensata, sempre che riesca a trovare il mio ufficio. Ok. Ah. Un altro computer. Un esperimento per terminare l'apporto calorico ottimale un certo tipo di cibo in relazione allo spazio fisico che occupa. Questo esperimento valge la capacità di vari individui su male cibili consistenti e variati, permettendo loro di applicarvi una scelta di gusti più definiti della loro stessa. In questo esperimento un gruppo di testi è sannutito con le scorte standard del Bound. Un gruppo sperimentale ingerano sicuramente una pasta combustibile. La proposta, secondo me, è di scelta e dei legati. Di scelta pasta combustibile. Ok. 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 risposta del docente la vostra proposta molto interessante si consiglia ha deciso il film un mese di tempo nel vauta a partire dal 15 ottobre di quest'anno veniremo un'accelerata ai suoi studi la sulle velevole incarichi con testi comunque nazioni e toriano precedente subvedente il consiglio per l'arrestamento cucina una classe questo la musica aspetta fa più male col cecchino rilevata presenza non identificata inizio la ricerca falso allarme disattivazione scansione per rilevare presenze ostili rispinta da un altro potenziale datore di lavoro se arrivando qui mi avessero detto che avrei fatto di tutto tranne che il soprintendente di un volto di controllo non ci avrei creduto ora che mi trovo qui ho una visione più concreta delle cose il soprintendente del volto 96 che ha uno degli incarichi più importanti insieme al 76 non mi ha nemmeno degnata di uno sguardo mi ha mandato una lettera di rifiuto se va avanti così mi spediranno sulla costa occidentale a pulire i bagni del volto 29 in mezzo a quei marmocchi figli di papà ormai credo di averlo capito la voltec è un cubo di raccomandati e lecca culo è praticamente impossibile fare strada senza seguire conferenze o scrivere saggi non c'è rispetto per la passione questi ragazzi non hanno idea di cosa significhi veramente la voltec nel frattempo mi toccherà fare il terzo tentativo con la mia tesi di laurea non sarà divertente ricevere un altro no da Dean Elliot ormai sono a corto di soldi il prossimo progetto di tesi a cui parteciperò nel volto simulato sarà l'ultimo il ragazzo sembra saperci fare è un esperimento sul cibo quindi almeno mangerò bene ho detto per i corsi oh ok progetti personali per i dicori eh ho avuto la possibilità di studiare di persone per i dicori orski volevo farlo sin da quando ho messo piedi in Virginia occidentale mi hanno sempre avvicinato loro l'idea che gli europei potrebbero essere giunti in nord america fin nel lontotenne già nel sesto settimo secolo fatto che la lingua utilizzata si ronga basco qualche altra lingua antica ancora da stabilire solamente previsco traduzione basca racconto la grande animata caccia a bisolte sono state è sempre emozionante studiare l'altro giorno l'altro giorno giacquini mi ha portato altri sui appunti non riesco ancora a capire cosa siano queste lune non coincidio con alcun per tuo figlio presenta la azione nel cuore con le antiche lune europee come aveva potenza tuttavia sono ancora convinto che lavoriamo con impotenza comunque qualcosa che ci permette di intuire per sommi capi il significato se ne hanno uno inizio a chiedere che non ci sia un senso ma la cosa mentica da quanto la World Tech ha rivelato l'università l'attenzione si è prostata su una formazione classica le materie più specializzate ho visto diversi professori che l'ho ben servito ma per fortuna finora mi hanno risparmiato un sollievo che la lingua sia considerata un valore da proteggere anche ora che la società ha il collasso gli uomini sono costretti ad all'internazzi sottoterra traduzione delle pietre Gianquini ha il diritto di mettere la chiave di traduzione fulani così si sarebbe sentita più al sicuro quella donna è pananoica ma non nego che ci sia un buon motivo per questo tiene sempre con sé punti originali dice che perde il bene del progetto nel caso in cui qualcuno si scopa nessuno ha tutti i pezzi del puzzle persino l'agente eguristo sta prendendo le precauzioni c'è un valio qualcosa di grosso anche sia resto dell'idea che le lune siano semplici incisioni di questi città indigene della regione Jacqueline al contrario ritiene non c'è un vino di allarmi si prendo le città indigene per non ripristinati appoggiati con i minori numeri presupposti e spesso con la colletta finito allora ammazziamo questo qua ma l'avamo a lotti di vedere dov'è? c'è più? ah è qua va va col tappo della sicurezza. Ah, sai, ma hai fatto spaventare. Ah, giù di qua, vero. E poi c'è l'uscita. Ah, ce ne sono due. Uccidere, uccidere. In un'area sgombra e identificati, i cittadini rispettosi della legge non hanno nulla da temere. Dove quelli anni? E' un'area sgombra. Ma l'acqua è buona. Poi. Aposto. Allora, dottiamo No, non vogliamo Oh Oh, giuda Non butto via i materiali Boh, sono le 7, va, stacco che sono cotto Il negozio mi ha detto dopo, fai Eh, prendiamola No, stacchiamo Non butto via i materiali